No, non la 18! Fuck! Combattee battle... Combattee... Ah no, combattee battle. Ok. Questo sembra un team originale. Hm. Ok. Io comincio con Flareon e... Flareon mi conviene quando ho Pokémon d'acqua in giro. Inoltre c'è un Lithion. Però c'è Infernape. Lithion e Espeon. Lithion e Espeon. Flareon in riserva. E l'altro in riserva... Facciamo che è Mister. Jolteon. Let's go. Ok. Inferno Ippelanthorn. Andiamo bene, guarda. Boh, manda Flareon. Ma tanto... Fuck, sono già fregato. Sono già fregato. Lifion resiste sempre a tutto quando lo sto affrontando, anche a mosse di fuoco, volante, super efficaci. Ma visto che il mio probabilmente non sarà... Wow, è rapido? Buono lì. Perché siamo più veloci? Noi? What the fuck is happening? Ah! No! È vero che Espeon... Non ha ancora usato maledizione. Di un pochino ha senso. No, please. Please, non disconnetterti anche tu. C'è qualcuno? Ah, ok. Stavo per dire. Ok, Lifion. È il momento di provare se la tua introforza è di tipo ghiaccio oppure no. Almeno lo so per il futuro. E poi faccio una cozzata a Zen su Lanthorn. Yes, ghiaccio! Pachà! Non vale, però. Nella vecchia genere ha tipo 60 qualcosa di potenza. Drift Blemus ha sostituto. Piuttosto inutile. Cos'è? Cominciare a fare accumuli, I guess. Oh, e ora va il Plum fa la sua entrata triunfale. E ora posso usare finalmente la mossa inutile! La mossa che non deve essere nominata perché è inutile. Di Lifion. Non è quasi mai utile. È utile solo contro i Pokémon Erva Veleno. E contro... Breloom. Ma boh, è una mossa. E l'hanno potenziata in questa gen di parecchio. Quindi sono curioso di vedere quanti danni fa va il Plum. Synchrumore! Non male. Dovrebbe stendere un Preloom, credo. Uh, sparisce improvvisamente. E' probabile che il mio Espeon morirà. Anche dopo la... Il Power Up che ha ottenuto. Un giorno affronterà un tizio che userà sia Breloom che Venusaur che Vileplume. E allora... Synchrumore dominerà. Vabbè. Bella prova, Espeon. Però dobbiamo solo finire col Drifblim. E direi che un paio di attacchi sono sufficienti. Ehi, è Giolteon. Chiavami Spike. Ok, ok, ok. Sprizza lampo. Ti rompe il sostituto. E non so, sì, dovrebbe... Introforza dovrebbe farlo fuori. Et voilà. Non completamente soddisfacente sta battaglia, però... Pisellabile. Si può accettare.